Il programma è presentato da Alcat Test Italia, il test sulle intolleranze alimentari, www.alcat.it Ben ritrovati a tutti ad un nuovo appuntamento con Sport Day, la nostra informazione sportiva. Parliamo subito di Europa League e cominciamo da Roma a Fiorentina con lo psicodrama, possiamo dirlo, per i giallorossi. Sotto di tre gol dopo 20 minuti ed eliminati con un secco 3-0 dalla Fiorentina che invece festeggia risultato e prestazione. Sentiamo le parole dell'allenatore Vincenzo Montella. Ma è difficile, appunto anche nelle sconfitte è difficile. Io guardavo la Fiorentina e credo che sia stato giocato un grandissimo primo tempo dove gli episodi ci hanno anche aiutato. Anche se non credo molto nella fortuna, però probabilmente quando c'hai una libertà nella mente che sicuramente avevamo più noi, gli episodi abbiamo cambiato in situazioni positive. Quindi questo ci ha aiutato e poi è stato tutto più facile nel senso che dopo il secondo gol la partita l'abbiamo gestita con più tranquillità. Fiorentina dopo l'1-1 ho cercato di vedere il lato positivo della cosa, guardando la mia squadra ero certo che probabilmente un 0-0 Casalingo sarebbe stato diverso o un 1-0 probabilmente sarebbe stato ancora diverso nel senso peggio che noi a livello mentale perché non siamo abituati a gestire i risultati. Quindi il fatto che alla vigilia dovessimo venire qua per giocare, per far gol e per vincere, paradossalmente può darsi che ci abbia pure giovato. Opposte naturalmente le valutazioni e l'umore anche di Garziale, natore della Roma, che dice sì abbiamo sbagliato, regalato troppo, eravamo partiti bene in modo anche arrembante, ma quando si regalano completamente due gol con errori dei singoli diventa difficile parlare di tattica o di condizione fisica. Sentiamolo. Prima voglio fare i complimenti alla Fiorentina che ha sfruttato al meglio i nostri regali, ma quando prendiamo due gol come li abbiamo presi, errori individuali, non c'è niente da fare, non è un problema tattico, non è un problema fisico, non è un problema tecnico, con due gol così presi era quasi impossibile qualificarci. Io sono mortificato ma io non sono abbattuto perché adesso c'è solo una cosa da fare, c'è da difendere il secondo posto in campionato perché c'è due possibilità, o molliamo, ma non sarà con una torre che molla, perché io non mollerò né un secondo fino alla fine di questo campionato e per questo che porterò con me tutti i giocatori che hanno la personalità, il carattere e l'orgoglio per risolevare la Roma, perché si parla di questa cosa. E adesso sul campionato abbiamo il nostro destino tra le nostre mani e dobbiamo fare di tutto con queste 11 partite per finire bene, per vincere le partite e per finire secondo e qualificarci per la Champions, perché la Champions l'abbiamo giocato quest'anno e io voglio giocarla l'anno prossimo. Non riesce la rimonta all'Inter contro il Wolfsburg, a dire il vero non comincia nemmeno, in vantaggio i tedeschi per 1-0 pareggia Palassio, ma alla fine risolve tutto per i tedeschi Betner che chiude definitivamente una pratica di fatto mai aperta dopo gli errori dell'andata. Sentiamo a questo proposito le valutazioni di Roberto Mancini. Diciamo che loro hanno iniziato la partita con un vantaggio di 3-1, quindi erano un po' più rilassati di noi, e quindi avevano questo vantaggio che era un buon vantaggio prima della partita. Fatto il gol è chiaro che è diventato ancora più difficile, non so se stanno meglio di noi o no, sicuramente sbagliano meno di noi, quindi sbagliando meno di noi hanno più possibilità. Noi abbiamo preparato la partita in un certo modo pensando di essere un po' più incesivi sugli esterni, perché avevano messo Cova, Cicernanes, tenendo vicini Palassio e Icardi. Abbiamo avuto le occasioni nel primo tempo, quindi forse dovevamo cercare di essere un po' più cattivi sotto porta nell'occasione che abbiamo avuto per cercare di sbloccare la partita e quindi avere un po' più di chance di passare il turno. Però poi purtroppo se nel momento che affondano una volta o due volte trovano il gol, poi nelle coppe diventa difficile poter recuperare, quindi è stato molto più difficile dopo l'1-0. Eking, allenatore del Wolfsburg, ha detto che dovevamo controllare la partita, le cose gli sono andate decisamente bene, soprattutto dopo il vantaggio. L'Inter si è disunita, non ha fatto una prestazione eccezionale, sono piovuti anche dei fischi e il Wolfsburg alla fine vince anche la gara. Queste le considerazioni del tecnico? Siamo molto contenti, non solo col risultato, ma anche con la maniera che abbiamo gestito la partita e abbiamo alla fine vinto anche la partita. Sapevamo che sarebbe stato difficile, prima della partita di ritorno, l'Inter ha provato dal primo minuto di fare gol, siamo stati magari anche fortunati un po' noi, ma poi abbiamo creato anche noi due o tre occasioni, poi alla fine siamo stati anche capaci di approfittare di queste nostre occasioni e abbiamo giocato molto bene, devo dire. Poi quando l'Inter ha segnato era un momento un po' difficilino per noi anche, ma siamo riusciti a rimetterci in campo e creare pericoli con i nostri attacchi in contropiede. Allora sono molto contento della partita, ma poi anche soprattutto molto contento, contentissimo di aver vinto due volte contro l'Inter. Con questa squadra anche che è abbastanza giovane, per loro, per i miei giocatori, è un grande passo nel loro sviluppo. Il compito del Napoli contro la Dinamo Mosca non era proibitivo, soprattutto dopo il 3-1 dell'andata, finisce 0-0 e passa al turno. Più difficile invece il compito per il Torino, che non ce la fa, vince 1-0 al novantesimo con un gol di Glick, disputa una partita eccellente sotto il profilo dell'impegno e anche della qualità, ma non ce la fa. esce a testa alta, queste le valutazioni di Ventura. Credo che il Torino abbia fatto la partita che doveva fare, credo che avrebbe meritato la possibilità di fare i supplementari, visto che lo score parla di 0 tiri in porta dello Zenit. Ci sono stati fra gol annullato, che vi dicono, forse valido, fra le parate del portiere, i salvataggi sulla linea. È un peccato non aver potuto proseguire nei supplementari. Lo avrebbe meritato la squadra, lo avrebbe meritato il pubblico, lo avremmo meritato tutti, però il calcio è la conferma di quello che avevo detto sia alla vigilia, in conferenza, perché la partita dell'andata mi aveva detto che era una squadra che se avessimo fatto bene le cose avremmo potuto fare la partita, l'abbiamo fatta, e conferma il fatto che l'espulsione, i 10 contro 11 dell'andata hanno penalizzato oltre misura. Questo è il vero grande rammarico. Però complimenti allo Zenit, in bocca al lupo allo Zenit, naturalmente, per il futuro. Ma sono dispiaciuto per i giocatori e per il pubblico, perché entrambi avrebbero meritato. Sono rammaricato, perché la partita ha detto che è stata giocata con grande maturità, con grande lucidità tattica, per stragrande maggioranza della partita. Stiamo parlando di una squadra tra le più importanti d'Europa, a cui non abbiamo concesso neanche un tiro nello specchio della porta. Quindi è evidente che un po' di rammarico c'è. Però c'è anche la consapevolezza che oggi noi avevamo due obiettivi. Uno, quello di tentare di passare il turno. Il secondo, quello di esportare l'immagine di una squadra che, se vuole, può, di una squadra che non teme l'avversario, perché è consapevole che se fa le cose bene può essere protagonista. L'allenatore dello Zenit, Villas Boas, dice sostanzialmente bene la fase difensiva della mia squadra, male davanti. Alla fine abbiamo meritato, pur soffrendo nei minuti di recupero, e alla fine addirittura si scusa con i tifosi, con il Torino nel suo complesso. e con il team manager per uno sfogo avuto nella finale. Sentiamolo. Sì, è una partita che noi abbiamo fatto bene difensivamente, però male con la palla. Per quello abbiamo sofferto un po' più di quello che aspettavamo. Anche se in realtà difensivamente molto bene, è sempre sotto contro. Peccato perché con la palla dovevamo fare meglio. Volevamo cercare di fare il gol che dava la tranquillità assoluta. Anche se abbiamo avuto un paio di opportunità, non sono state opportunità chiare. Per quello abbiamo sofferto quando loro hanno fatto gol. Anche se il gol è venuto già in disperazione quando loro erano con quattro avanti. Per quello sono molto, molto soddisfatto per la personalità e carattere dei giocatori per sostenere questo gioco difensivo e questa intensità emozionale nel finale di gioco. Noi non abbiamo fatto antigioco. Abbiamo ovviamente preso un po' di tempo, però ho perso un po' di tempo. Però non abbiamo fatto antigioco. Sei minuti penso che era sbagliato. Comunque abbiamo stato molto bravi, molto bene in tutta la gara e anche in tutti quelli sei minuti che erano stati i più difficili della partita in realtà. Sì, ho sbagliato completamente perché l'aveva preso con il team manager del Torino e chiedo scusa per il mio comportamento che non è digno di un allenatore di calcio. Ho perso un po' la testa e per quello chiedo scusa al Torino, ai tifosi e a lui. Archiviata la parentesi di Coppa con la sontuosa prestazione della Juventus a Dortmund è il passaggio di Fiorentina e Napoli in Europa League. Ci rituffiamo nel campionato. Lo fa anche il Genoa che deve riscattare la pesante sconfitta interna con il Chievo ma lo deve fare con la Juventus. Insomma potrà sfruttare oltre alla voglia di riscatto anche chissà magari la stanchezza soprattutto psicologica dei bianconeri. Sentiamo. Dimenticare la brutta sconfitta con il Chievo e ritrovare prestazioni e risultati di qualche settimana fa. Con questi due obiettivi il Genoa domenica prossima farà visita alla Juventus capolista. Certamente non l'avversario migliore per risollevarsi anche perché lo Juventus Stadio è un fortino praticamente inespugnabile. Ma Gasperini e i suoi ragazzi sono chiamati ad una reazione visto la scialba prestazione offerta nell'ultima giornata di campionato che certamente non è andata giù ai tifosi. Tra l'altro il Genoa si presenterà con due assenze importanti come quella di Iago Falke e Rincon entrambi squalificati. E proprio l'assenza dell'attaccante esterno potrebbe dare carta bianca a Borriello fin dal primo minuto. La sua condizione fisica è vicina ai livelli ottimali come ha dimostrato il secondo tempo contro il Chievo durante il quale ha sferato il gol in diverse occasioni. Borriello potrebbe giocare insieme a Perotti e Niang nel caso in cui Gasperini decidesse di scendere in campo con il tridente. A centrocampo Rincon probabilmente sarà sostituito da Kucca anche se Tino Costa che ha recuperato dal suo infortunio è a disposizione. Difficilmente però il mister rosso-blu lo rischierà tra i titolari visto che la linea mediana della Juventus è la più forte del campionato e per cercare di arginarla servono giocatori al 100%. Insomma una battuta di arresto ci può anche stare in un campionato comunque sopra le aspettative ma l'atteggiamento a Torino dovrà essere decisamente diverso se non si vuole rovinare quanto fatto di buono finora. E a proposito di Juventus i bianconeri si muovono già per la prossima stagione ebbene avrebbero nel mirino il gioiello del Palermo di Bala. Vediamo. Il futuro di Paolo Di Bala potrebbe essere ancora in Serie A. L'entourage dell'attaccante argentino ha avanzato al presidente del Palermo Maurizio Zamparini la richiesta di far proseguire al classe 93 il processo di maturazione nel calcio italiano. E al momento chi si sta muovendo maggiormente per ingaggiare l'ex istituto de Cordova è la Juventus. Gli uomini mercato del club bianconero sarebbero da diversi giorni a stretto contatto con la dirigenza del club di Viale del Fante. La Juventus dunque avrebbe deciso di fare sul serio usando i mezzi a propria disposizione mettere sul piatto due contropartite tecniche più eventuali soldi. E i giocatori in questione sarebbero il portiere Fiorillo classe 90 attualmente in forza al Pescara e Coman su quest'ultimo però continua incessante il pressing del Sassuolo in vista della prossima stagione. La società emiliana sarebbe fortemente interessata alle prestazioni dell'esterno offensivo classe 96 che potrebbe essere ceduto con la formula del prestito secco. Su Di Bala ci sono però anche altri club esteri come il Paris Saint Germain o Arsenal. E Zamparini nei giorni scorsi ha anche dichiarato che ha già in mano un'offerta importante che andrebbe solo ratificata. Insomma futuro già scritto per Di Bala che nel prossimo campionato è certo non indosserà la maglia rosa nero. Intanto prosegue la preparazione del Palermo in vista della gara di sabato al 20 godi contro il Chievo Verona. Partita che dovrà segnare il riscatto della formazione di Beppe Iacchini. Questo era l'ultimo servizio il nostro Sport Day termina qui io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Il programma è presentato da Alcat Test Italia il test sulle intolleranze alimentari www.alcat.it 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 www.alcat.it